Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna Natale al Porto. Mercatini natalizi, animazioni e un fantastico villaggio di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini ogni fine settimana del periodo delle feste. Il Porto Turistico di Marina di Ragusa si prepara a celebrare le imminenti festività con numerose attrazioni all'insegna del divertimento. Un entusiasmante villaggio di Natale accoglierà gli ospiti in un clima di allegria offrendo loro tante animazioni, spettacoli e novità. Stasera ci sarà una speciale cena di Natale al Porto Turistico per celebrare questo periodo di festa. C'è fibrillazione tra i ristoratori e gli esercenti che operano al Porto Turistico e che hanno deciso di organizzare un buffet di Natale in programma stasera alle ore 20 nei locali della Sala Atelier per proporre le loro eccellenze culinarie e offrire al pubblico la piacevole atmosfera che si respira al Porto Ibleo. Ad allietare la serata anche una bellissima atmosfera natalizia per una vera festa da vivere insieme con anche i diportisti stranieri. Contributo di 10 euro a persona. L'appuntamento di venerdì apre il fine settimana di allegria da vivere al Porto Ibleo in occasione del Natale al Porto. Il calendario di eventi organizzato in occasione delle feste natalizie con tanti momenti di relax e svago dedicato ai grandi e ai più piccoli. Torneranno le aminimazioni con la presenza di artisti e mascotte che caratterizzano i fine settimana così come sabato pomeriggio e domenica per l'intera giornata tornano i divertenti gonfiabili gratuiti per i bambini così come la casa di Babbo Natale e Natalina. Ci sono inoltre le casette dei mercatini natalizi e poi le offerte dei tanti negozi per lo shopping e i regali da mettere sotto l'albero. Da ammirare poi il suggestivo presepe allestito su una barca dei pescatori che a guardarlo sembra un vero e proprio dipinto. Al centro la capanna costruita sulla poppa della barca con teli di jute e ramoscelli verdi accoglie la Madonna e San Giuseppe in attesa di Gesù Bambino. Davanti a loro sono tutti adagiati i remagi che pare quasi camminino verso la natività. Tutti intorno il mare le cui sfumature sono pennellate di colore su questa tela preziosa. Il sole lo riscalda con i suoi raggi dandogli una luce diversa ogni ora del giorno mentre la sera la luna e le stelle sono fili d'argento che si poggiano dolcemente sui volti dei personaggi. Il Natale al porto è dunque un'occasione per passare giorni di feste in riva al mare insieme alle numerose attività commerciali che regaleranno momenti di serenità a tutti i visitatori del porto.